Onorevole Filippo Busini, lei si è molto arrabbiato per l'atteggiamento di un insegnante di Tiene, perché? Basta citare la traccia del tema che ha dato a questi studenti della terza istituto tecnico commerciale per capire la gravità della cosa. Nella traccia diceva persuadi un tuo compagno leghista che l'immigrazione è una risorsa e non un problema. Nella traccia del tema si capisce tutta la carica e la portata dei pregiudizi di questa insegnante che dovrebbe invece insegnare a combattergli i pregiudizi e ad accettare un confronto democratico e aperto senza conflitti fra i suoi studenti. Ci sono due giudizi di valore, intanto che il leghista sia contrario a priori all'immigrazione, cosa che non è assolutamente detta e non è mai stata portata avanti come linea di partito. Sappiamo benissimo che l'immigrazione è una risorsa, ma sappiamo anche che può essere un problema e va gestito. Quindi dare questi giudizi di valore sul fatto che l'immigrazione non sia un problema che va gestito e che i leghisti siano tutti dei gretti razzisti e contrari a priori all'immigrazione è completamente inaccettabile. Mi ha deluso profondamente l'atteggiamento del preside che doveva secondo me prendere dei provvedimenti disciplinari perché questi episodi vanno stigmatizzati ma va anche evitato la probabilità e la possibilità che si ripetano nelle scuole pubbliche italiane. Grazie. Grazie.